a Padova. Senti, questa mattina tu hai fatto un gesto estremo, l'hai tentato, fortunatamente qualcuno ti ha fermato, ma che cosa ti è passato per la testa? Quello che è passato è stato che non riuscivo a darmi delle risposte a tutto quello che ci sta succedendo. Noi erano da settimane che eravamo in strada manifestare pacificamente per i nostri diritti, i diritti di tutti i cittadini. Quello che non riesco a capire è che a noi le forze dell'ordine ci hanno prima autorizzato a questa manifestazione e poi di tutto un tratto hanno fatto smantellare tutto, senza darsi una motivazione seria, tirando fuori mille scuse e mai venendo di persona a dirci le motivazioni. Allora, quello che non capisco, se io non ho mai creato disagio, se io non ho mai fatto niente di male, se io ho dato solo anima e corpo per una cosa che trovo giusta e mi viene negata, ma viene concessa la libertà di poter spacciare o usare la mia città, la violenza e il degrado, se questo è giusto non capisco più dove stiamo andando a finire, io voglio delle risposte. I tutori della legge che ci hanno negato questi devono venire qua a dirmi cosa ho fatto di male. Allora, io ieri a Radigos gli avevo detto che loro stavano calpestando anche l'ultima dignità che mi era rimasta, perché io ho lasciato la mia famiglia, era una settimana che dormivo in tenda al freddo. Allora, se loro io ieri ho avvisato e c'erano delle denunce dai nostri coordinatori, io per evitare danni e guai a loro ho lasciato stare, però ho avvisato i Radigos dicendo guardate che voi mi state calpestando anche l'ultima dignità di poter manifestare pacificamente, mi state portando all'estremo. Loro non hanno dato peso a questo, ma il problema è proprio questo, che non danno peso alle persone che sono veramente esasperate. Questo diritto è mio, ce l'ho e io ho sempre detto manifestare è un diritto, è un dovere e farlo in maniera pacifica e corretta e io l'ho fatto. Senti, che cosa ricordi di questa mattina? Cosa è successo? Stamattina, io stanotte ho dormito male e poco, è mesi che convivo con il male, col dolore addosso e questo non mi blocca per andare in strada per i diritti dei miei figli. Per cui, stamattina mi sono alzato, la cosa che ho fatto è quello di fare quello che avevo detto. Se loro credono che io sto a parlare per niente, hanno capito male, la gente è stanca, è sbagliato forse adesso con un po' di calma arrivare a certe cose estreme. Però serve questo forse per mobilitare la gente? Non riesco a capire, serve questo? Se le istituzioni e la legge stessa non mi tutela e anzi annunci la disperazione o quello che sta succedendo non mi sento tutelato da nessuno. Le uniche persone che mi sento protetto sono i ragazzi che sono in strada con me, che ho conosciuto da 9 dicembre. i signori qua non li conosco, sono come fratelli adesso, perché abbiamo lo stesso condiviso, lo stesso ideale di risistemare un po' l'Italia. Scusate.